Amici della locanda, bentrovati a questo nuovo Giova Consiglio della Red Zone. Oggi parliamo di film, di cose da guardare, da recuperare in questi giorni di ancora isolamento, che ci accompagneranno per un po', temo purtroppo. Quindi parliamo di film, partiamo immediatamente. Oggi vi parlerò di tre film e di una miniserie, quindi una piccola serie tv, giusto perché, così, frugando nella mia cava ho trovato alcune cose particolari. Alcuni sono, due di questi sono film molto recenti, che ho comprato di recente nelle ultime, diciamo, spedizioni a domicilio della videoteca e ve li consiglio fortemente perché mi sono molto piaciuti. Uno è un vecchio classico e la miniserie è una piccola particolare di qualche tempo fa, però si trova ancora tranquillamente, che vi consiglio. Partiamo immediatamente senza ulteriori indugi. Il primo film di cui vi voglio parlare è un film abbastanza recente, uno dei ultimi che ho visto e che ho comprato, ed è, siete sconosciuti, El Royale. In inglese è Bad Times at El Royale. È un film corale, non so se riesco a mettere il fuoco in maniera efficace... È un film molto interessante, corale. Una serie di personaggi, tra cui Jeff Bridges, magnifico, Chris Hemsworth che fa questa parte non così comune per lui, molto inquietante. è una parte oscura per questo attore che di solito fece parti più solari o positive, quindi un'interessante scelta. E tutti sono tutti bravissimi, in realtà. Dakota Johnson, John Hamm, c'è tutta una serie di artisti all'interno del film, un film corale magnifico. Tutto girato dentro a El Royale, questo albergo a cavallo tra due stati, Texas e Nevada. E, sostanzialmente, è proprio la linea dei confini attraversa questo albergo, dove questi personaggi si ritrovano riuniti. Ed è tutto un giro. È un film di segreti, di cose non dette, di apparenze che vengono falsate, di inganno. Tutto non è come sembra. Ognuno di loro è lì per un motivo. Alcuni più chiari di altri, alcuni motivi oscuri, altri invece semplicemente la casualità del quotidiano che porta a essere coinvolti in dinamiche straordinarie. Il film è molto molto bello. Molto molto bello. Prende una china molto ripida, quasi subito, molto cupa, anche piuttosto inquietante, anche nelle prime parti in cui viene svelato, non vi dico nulla, ma viene svelato alcuni retroscena. Subito ci facciamo delle domande su chi sono queste persone, cosa stanno facendo lì, perché sono tutti lì. È un caso? C'è tutto un giro interessante, devo dire molto molto interessante e abbastanza inaspettato. Posso anche dirvi, ci tengo molto a non fare spoiler perché a me è piaciuto moltissimo anche scoprirle le cose. La musica, posso dirvi, che è una parte molto importante nel film, proprio come elemento vivente, come parte di personaggi. Le scelte delle scenografie, loro, per me Jeff Bridges è magnifico e tutti, sono tutti molto bravi, devo dire. E Chris Hemsworth mi è proprio stupito per questa parte abbastanza oscura, che ripeto non è poco comune per lui. Quindi ve lo consiglio assolutamente, se non l'avete già recuperato. Io me lo sono fatto spedire a casa ragazzi del Tiva Video e è stata una piacevolissima visione e sorpresa. Quindi, primo giro a consiglio. L'altro giro a consiglio di cui voglio parlarvi, un film anche questo abbastanza recente, è Vice, L'Uomo nell'Ombra. Allora, questo è un film, in realtà, quasi un documentario, potremmo definirlo, non lo so. È un film, chiaramente, dove un magistralmente interpretato, interpretante, scusatemi, Christian Bale, mette in scena, come personaggio, Dick Cheney, il vicepresidente del mandato George Bush Jr., ha la presenza americana ed è tutto, è quasi un docufilm sulle figure di potere, Rumsfeld, Cheney, tutta una serie, la moglie di Cheney, della scena degli ultimi vent'anni. E questa figura assolutamente doppia, mefistofelica, un po' si fa corrompere, un po' corrompe, molto interessante. Christian Bale fa un Dick Cheney, lui è assolutamente incredibile, come sempre un trasformista anche fisico, lui e questa cosa ce l'ha sempre avuta ed è bravissimo a farlo, quindi magistrale. Amy Adams rappresenta in scena sua moglie, molto brava anche lei, assolutamente tagliente. C'è un Sam Rockwell che fa Bush, molto bravo, assolutamente molto bravo. Ma un altro, oltre a Bale, che per me è magistrale, magistrale di interpretazione per me è stato Steve Carell. Steve Carell che mette in scena Rumsfeld, questa figura politica assolutamente umbratile, assolutamente d'ombra, assolutamente tagliente, viene definito in scena politicamente un mestole coltello a farfalla, proprio l'idea del gioco di coltello. E lui è veramente... Io sono abituato a vedere Steve Carell come figura positiva o comica in film leggeri, anche film drammatici ha fatto cose bellissime, però di solito comunque è sempre una figura drammatica di rivalsa al massimo o di dramma, non oscura anche qua. Anche qui parliamo di figure oscure come il film precedente. E lui mi è piaciuto moltissimo, il film è molto bello, assolutamente molto bello, bello tosto, attraverso alcune delle pagine di storia più recenti ed è assolutamente un giova consiglia. Molto molto bello. Vice, l'uomo nell'ombra, è un film assolutamente da guardare per quanto mi riguarda. Poi, parliamo sempre di film, parliamo di film vecchi, questo è un po' più classico, non mi ricordo neanche più l'anno, lo trovo, del 95, accidenti, anni 90. Parliamo di un western, questa volta, e parliamo di un western che non ve lo faccio vedere. Il film è Pronti a morire, in inglese in originale è Quick Draw, no, The Draw and the Dead è un nome del genere. Pronti a morire è un western con Gene Ackman, Sharon Stone, Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, una serie di caratteristi incredibili a contorno di questi attori incredibili, girato da Sam Raimi. È una storia western abbastanza classica, tutta incentrata sui duelli, in questa città del West viene fatto questo duello con una posta molto alta, dove però si spara per uccidere, cioè quindi non è d'onore, è un duello mortale. E i principali pistoleri si ritrovano in questa città per sfidarsi, tra cui c'è Sharon Stone, che interpreta questa donna abilissima, questa pistolera, non so che si dice, che arriva lì per cercare vendetta. Quindi il protagonista è lei, questo protagonista femminile di vendetta assolutamente bellissimo in questo western classico. La cosa, tutti gli dati molto bravi, Gene Ackman fa questo, il classico cattivo possidente terriero, proprio figure classiche dell'arche tipo western, che io amo molto. La cosa che però lo rende, siccome è un western da recuperare, anche per chi ama il western, se non l'avete visto, è la regia. Questo perché Sam Raimi si vede in tutto questo film, perché ha un taglio particolarissimo, assolutamente modernissimo nelle riprese, nel taglio, nell'uso della camera, nei dettagli che zooma. Molto cinetico, assolutamente è un film degli anni 90, ok, ma questa regia che è sua, cioè è proprio tipica di Sam Raimi, quindi io ve lo consiglio per vederlo, anche solo se anche non amate decisamente western o se vi piace vederlo, per il taglio registico che lui ha scelto di darci. Ed è particolarissimo, forse unico, quindi questo è un gioco a consiglia assolutamente per quanto vi ricorda. Pronti a morire, molto bello. Russell Crowe poi, che fa questo predicatore, ex pistolet, una storia, bello. L'ultima cosa che vi consiglio oggi è una miniserie, io ho una vecchia edizione, so che l'hanno rieditata, continuano ad editarla perché è un classico, in edizioni un po' più, diciamo, più portatili. Questo è un po' un box un po' grossino, ma capita. La serie che voglio parlare di oggi è Band of Brothers, prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks. Band of Brothers è una miniserie, mi sembra 8-10 puntate, che mette in scena gli scenari di guerra, è una miniserie sulla seconda guerra mondiale, in sostanza. Band of Brothers parla degli sbarchi in Normandia, quindi della vita di questo gruppo di soldati paracadutisti, paratroopers, della centoduesima. Dall'addestramento a Campo Toccoa, sbarco in Normandia, Carentan, Caen, tutto lo scenario della seconda guerra mondiale in Normandia, bastogne, le ardenne, la caduta delle acque, insomma. C'è tutto un percorso che accompagna in realtà il fronte alleato nelle fasi salienti della fine della seconda guerra mondiale, quindi parliamo dallo sbarchi in Normandia in poi come scene belliche, diciamo, magnifica, veramente molto bella. Sia come ricostruzione storica, molto accurata, loro bravissimi, è un cast corale, tutti attori incredibili, assolutamente da recuperare. Sono tutti attori, la serie è di qualche anno fa, avrà almeno 15 anni, secondo me, se recupero forse, se c'è un'informativa, forse. Credo che abbia almeno 15 anni la serie TV, questa miniserie, perché la compra veramente una vita fa. Sono tutti attori, tutti attori all'interno lo riconoscerete perché sono tutti caratteristri, attori famosi di serie o film di successo degli ultimi 15-20 anni. Quindi è un cast anche qua molto curato, loro molto bravi, la cosa, come sapete, a me le cose storiche piacciono, quindi non è un history jovas, ma potrebbe esserlo, con un taglio assolutamente cinematografico, quindi non da documentario, ma da serie, film, rappresenta in maniera molto accurata scene belliche, storiche, specifiche del secondo conflitto mondiale. Tutta la parte dell'Osbacca in Normandia, la parte delle Ardenne, che in realtà è molto inquietante, molto cupa, molto ovviamente di tensione, tutta la presa dei paesi della Normandia, Carantan, Caen, c'è tutto anche la psicologia dei soldati in guerra, molto interessante, il dramma ovviamente della guerra, il dramma sociale del momento, veramente un prodotto assolutamente di grande qualità, curatissimo e veramente molto bello. Se vi piace la storia, forse ce l'avete già, se non lo conoscete, vi consiglio di recuperarlo, è una miniserie, quindi 8-10 puntate, è proprio una cosa molto curata, molto breve, molto, molto, molto specifica, cioè quindi non è tutto il conflitto mondiale, chiaramente, ma è di pregio assoluto, per quanto mi riguarda. Amici, queste erano un po' di scelte che ho pensato di proporvi per questo Jova Consiglia, dove parliamo di film, vi ricordo che, o avrete già notato, che sono ripresi i JovaGioca, quindi l'altro format video che faccio, o che facevo, insomma, è passato più frequentemente, di giochi in scatola, quindi ho ricominciato questa settimana con un nuovo JovaGioca, cercherò di alternare JovaGioca e Jova Consiglia in maniera un po' casuale, onestamente a seconda di come riesco a preparare i filmati, spero voi tutti bene, amici, vi auguro, spero che abbiate passato una buona Pasqua, una buona Pasquetta, con i vostri cari o comunque isolati in casa, mi raccomando, perché ancora bisogna stare assolutamente in casa, questa è una cosa fondamentale, mi auguro che siete bene, vi auguro una buon tutto, una buona vita, un buon gioco e una buona visione, amici della locanda, qui dal Jova è tutto, ciao belli, pace!